Ma siamo pronti a costruire una squadra che sia vincente perché questa è l'occasione giusta per la città di Bolzano di uno scatto d'orgoglio, la possibilità di disegnare un futuro di progresso, di sviluppo per la città perché noi sappiamo che una giunta spagnoli avrebbe significato un immobilismo assoluto per cinque anni perché troppi poteri contrapposti e quindi un'assenza di programma e un'assenza di linea politica condivisa al contrario la parte alternativa di città, quella che per poco non ha vinto, ricordiamocelo, le elezioni il scorso mese di maggio ha un progetto, ha un'idea di città, ha un'idea di sicurezza, ha un'idea di interventi sulla finanza pubblica ha un'idea di pulizia e decoro, quindi ha un'idea di amministrazione ecco perché io dico, tutti assieme questa volta con una squadra capace veramente di rappresentare una novità assoluta per dare a Bolzano il diritto a guardare il proprio futuro con grande ottimismo C'è la possibilità di ricorso a questo punto? Io sento allo stato attuale ore 10 e 30 un affannarsi di voci perché il sindaco spagnolo evidentemente non si vuole arrendere si affanna alla ricerca di un tentativo, da quello che risulta, ma sono notizie di rimando si affanna alla ricerca di un tentativo di proporre un escamotage di ordine tecnico per magari tornare a votare, ma tornare a votare significherebbe peraltro ore 10 e 30 di questa mattina trovare una nuova maggioranza quindi ovviamente con una contrattazione ancora più a ribasso che porterebbe ancora più negli inferi sostanzialmente la dignità di questa ipotetica e proposta amministrazione c'è ora di fare piazza pulita, chiudere questa esperienza, chiudere con le ore 24 il capitolo spagnoli gli auguriamo tutto il bene sul piano personale, ma la città di Bolzano merita veramente di più Se ci sarà un sindaco del centro gasto non si riproparà lo stesso problema di governabilità? In una situazione come quella che stiamo vivendo la voglia di riscatto da parte della città è talmente forte che io sono convinto ci sarebbe la condizione necessaria per ottenere una maggioranza al primo turno vincere al primo turno, avere quindi numeri in consiglio comunale e poter proporre un'amministrazione forte, stabile di contenuti di programma Forse non vi interessa più di tanto, ma che chiave di lettura date della mossa via la Pittarelli? È una responsabilità di cui evidentemente risponde in prima persona, è una responsabilità politica molto importante evidentemente ha una frattura trasversale all'interno del partito, renderà conto a quegli organi di partito e alla città se si vuole sul piano politico e di indirizzo evidentemente c'è un sottofondo amaro in questa vicenda perché era chiaro sin dal primo momento, lo era chiaro a noi, strano che non lo fosse a Spagnoli che la maggioranza non era una maggioranza e noi ci aspettavamo che cadesse fra un mese, un mese e mezzo beh è caduta prima di nascere